Organizzare una sorpresa per chi ami non è mai stato così facile. Da oggi, nella piattaforma Ricette per Bimbi, troverai tantissime idee per i tuoi menu. Lasciati ispirare, scegli le ricette da preparare e visualizza la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare. Cucinare da oggi è ancora più semplice e veloce e potrai anche creare con facilità i tuoi menu settimanali. Preparare le ricette con Bimbi è così intuitivo e divertente che non ti dovrai più preoccupare di nulla. Ecco perché organizzare una sorpresa per chi ami non è mai stato così facile. Lasciati sorprendere dalla semplicità. Il nuovo Bimbi porta in cucina la rivoluzione digitale. Con centinaia di ricette in modalità guidata, tu dovrai soltanto seguire i passaggi per preparare deliziosi piatti, tutti i giorni. È così divertente che anche i tuoi bambini potranno cucinare con te. Bimbi è molto di più di un qualsiasi robot da cucina. Da oggi potrai scegliere cosa cucinare, organizzare e creare i tuoi menu in modo facile e divertente, quando vuoi e ovunque tu sia. Bimbi, la cucina sulla punta delle tue dita.